Volete stupire amici, parenti o semplicemente chi vi circonda con uno spettacolo di luci a portata di palmo? Vi spiego come fare tra poco, qui su Tech Princess. Lui si chiama Alcatel A5 LED, è l'ultimo arrivato di casa Alcatel e per comprarlo bastano circa 200€. Cosa c'entra con lo spettacolo di luci di cui vi parlavo prima? Semplice, A5 LED è dotato di una cover in grado di arricchire la sua parte posteriore, con una moltitudine di LED in grado di cambiare colore in base al vostro desiderio. Insomma, uno smartphone dalla personalità unica e inconfondibile. La cover LED Light Up Plus si illumina quando riceve una telefonata, una notifica social, gli allarmi dei promemoria e tanto altro. Per esempio, blu per un messaggio di Facebook, verde per un WhatsApp e così via. Se non vi piace questo set di colori potrete sempre impostarlo come meglio desiderate, usando tutti i colori dell'arcobaleno. Potrete persino creare un gioco di luci personalizzato che va al ritmo di musica e divertirvi a cambiare il tema del telefono scuotendolo leggermente. Sarete liberi di esprimere il vostro stile personale, catturando i colori di ciò che vi circonda, per creare un tema da impostare sul telefono e sulla cover LED. Pensato per un pubblico giovane e dinamico, questo Alcatel A5 LED è dotato di un potente processore octa-core, display Full HD da 5,2 pollici, fotocamera posteriore da 13 megapixel e frontale da 5 megapixel e una batteria da 2800 mAh. La memoria interna è da 16 GB, espandibile fino a 128 GB attraverso una scheda microSD. Non si tratta di un vero e proprio mostro di potenza. Ciò che dovrebbe spingervi a provarlo è proprio il suo carattere inconfondibile e il gioco di luci colorate che è in grado di scatenare. Direi che per oggi è tutto, io vado ad illuminare d'immenso questo Alcatel A5 LED. Voi nel frattempo non dimenticatevi di andare a visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati. Ciao! www.techprincess.it.it